Mandi a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati dal vostro Ava come l'Ava Iniziamo una nuova missione, sono qui nel Tempio degli Antenati Ovviamente il nome della missione non compare finché non apriremo quella porta lì Quindi iniziamo subito E ovviamente dobbiamo andare qua dove c'è il teleport, mi raccomando Ci giriamo e si, scendiamo qua Vedete, ok Prendiamo il potere del Sauro Prendiamo la palla E la spariamo Ops E la spariamo in questo portale Prendiamo la chest E dice che cos'è? Sembra una piccola statua Ed eccola qua Adesso andiamo con la seconda Giriamo sulla sinistra E dobbiamo andare dall'altra parte Ok Ok, prendiamo la palla La spariamo nel portale E al momento giusto bisogna tirare giù Grazie a questa leva E il portone andrà giù Ok, sta arrivando Quindi facciamo abilità E... POM! Prendiamo anche questa Possiamo vedere che adesso abbiamo due chiavi Adesso ritorniamo indietro dove c'è il teleport Prendiamo il potere del Sauro E andiamo Di qua Sulla destra Voilà Ok Colpisci il convertitore di traiettorie delle sfere per regolarne La direzione Attacchiamo Ok, vediamo che la traiettoria è giusta Quindi Prendiamo la sfera La spariamo dentro E attacchiamo di nuovo il portone Così entrerà E andiamo a prendere la chest Dopo aver fatto questo Sulla sinistra Andiamo qua Dove c'è la cosa del portale Quindi Torniamo nell'accampamento E adesso inizia la missione Dare alla notte Quel che è della notte Abbiamo preso la statua E ritorniamo lì Facciamo attiva E ci dice Usare le chiavi con le tre che abbiamo preso Entriamo Andiamo giù Bene E' arrivato il momento del puzzle Che dobbiamo attivare questa cosa Prima di tutto Andiamo in mezzo E iniziamo sulla sinistra Quindi Andiamo qua Usiamo sempre il potere del sauro Ok Quindi facciamo abilità Prendiamo La cosa L'esplosivo Ops E la spariamo qua Andiamo dall'altra parte E qua c'è azione e meccanismo E adesso bisogna arrestare Il meccanismo appena le lampade sono entrambe rosse Ok Torniamo indietro E ritorniamo in mezzo Adesso andiamo di qua Ok Quindi saltiamo Occhio a non morire Perché non possiamo toccare l'acqua Ottimo Non so come ho fatto Però va benissimo Andiamo su E anche qua C'è il meccanismo Facciamo apri porta E azione al meccanismo La stessa identica cosa di prima Adesso andiamo in mezzo E dobbiamo attaccare Dobbiamo attaccare Dobbiamo Attivare il meccanismo No aiuto Quindi Mi metto vicino qua Aiuto Eh vabbè Ho preso Pairoculus E facciamo azione al meccanismo Stessa identica cosa Rosso Torniamo indietro Adesso scendiamo Occhio a non cadere Il baule è prezioso Andiamo avanti E comparirà il mostro Distruggiamolo Adesso ci dice Vabbè Rimetti la statua d'ossidiana Sull'altare E voilà Missione completata Abbiamo la chest E ci ha dato Giada della notte frantumata Che è un pezzo Molto molto importante Per andare avanti Con le missioni Bene ragazzi Questo era quanto Quindi spero Che il video Vi sia stato Abbastanza utile E come sempre Ci vediamo Con un prossimo video Ciao